Questo sarà il mio! Ma che fai? Tieni il conto... Questo è mio! Due a uno! Due mani! Hai le labbra che sono morbide! E lo so, mi ha portato il foglio! E lo so, mi ha portato il foglio! Ma vieni con le labbra! C'è il periodo di vista! C'è il periodo di vista! C'è il periodo di vista! Vieni! No! Fermo! Fermo! Una cadera! Una cadera? Una precauzione! Scusa, ragazzi! Scusa! 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 Oh, ma questo è il convito del dottor Giuliani! Eh, ma non c'è! Eh, no! Visto che è già sveglio, che è ancora sveglio! Per te possiamo evitare a vivere un peggio in un attimo! È il gioco del treno! Bene! Adesso non farai un processo per una parola spettora, no? Non è possibile che per te sia sempre tutti un gioco! Tu proprio non ci arrivi a capire quando una donna la lasciamo stare, va bene? È questione di cromosomi! Oh, oh! È viva il moderno, perfetto e feminista! Pulsove del maschio cattivo a punire la donna! Tutte stronzate! Qui non è questione di uomo, di donna! Ma è questione di capire che se un essere umano confida in un altro, gli si avvia, E' come se mostrasse, se mettessi aiuto il proprio essere, il proprio io! Chiamalo come vuoi! La propria anima! Il proprio corpo! Tutto certo! Perfetta battuta finale! Perfetto, maniacale cliché! Va bene, non è! Su di te che sono sbagliato! Per te non era altro che uno di quei soliti trucchetti! No, no, no! Che trucchetti giochetti! E tu qui dentro cosa fai? Questo non è un gioco! Tu stai mettendo tutti i miei casini di questi giorni! E sopra ci fai da commedia! Sì! Scrivere, scrivere, scrivere! Sì! Scrivere! Negandosi alla vita tua per scavare la vita degli altri! Questo è il tuo cliché! Eh? Ma quando una è fuori del comune, l'ha detto il suo vecchio Torino, e cammina sopra la testa degli altri! Sì! Lei mai si farà tornare a trovare in casa di altri per farsi una scopatina! O scopatona! Lo fa qualcun altro! E lei lo mette in commedia! Ma tu sei riuscito a fare questo! Sei a corto di ispirazione! Diare nel mio computer! Guarda, io dubitavo che la tua risorsa principale potesse essere un'insensibilità totale verso il genere umano, specie se di sesso femminile, ma allora ne ho la prova! E già non ne potevo aspettare nulla! Da uno che in testa solo la donna usa il gioco! Allora, quattro salti nel proprio letto e poi via! Rispedita a casa! No! Non possibile! Siamo già a casa due! Prendi nota un'altra bella battuta per la tua bella cupiduola! Senti, caro mio, ora tu te ne vai da casa mia così come sei! E se non te ne vai subito, io chiamo la polizia! Chiaro? Conto fino a tre! Uno! Due! Tre! Ma che fai? Pronto? Una pattuglia, prego! C'è un intruso in casa mia! No, 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 no! Sono Erika Berris! Sì, la donna droga! Fate presto! L'indirizzo è Enes, Enio due! Sì! Ma non stia a richiamare! Fate presto! È una cosa urgente! Sì! Cosa fai? Enio! Oh mio Dio! Oh! Pronto l'ospedale? Sì! C'è un uomo con un infarto in casa mia! Sono Erika Berris! Vieni sempre! Tu le fate presto, per favore! Oh mio Dio! Oh! Oh! Polizia! Fermi, Polizia! Vendici! Signora, siamo andati! Siamo andati! Devo abbinare gli abottalazzi! Ehi che nessuna mano ha detto! Siamo andati! Siamo andati! Non lo so sicuramente! Non lo so sicuramente! Siamo andati! Si andati! Facci voi, dovete! Vado andatli! No, no, no... Lui è là! No, no, no! Lui è là! No! 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 Grazie!